E allora, vamonos tra i 3, 6, 1 Amici del Movie Bar, siamo tornati anche oggi Io sono contentissimo perché oggi mi immergo nel mondo delle sette note Delle tante note, io quando entro nel mondo delle tante note sono sempre così contento E oggi sono ancora più contento perché parlo con una professionista di serie A Una persona che io ho sempre stimato, seguito, conosciuto e soprattutto ascoltato E vado via veloce perché lascio a lei la scena, signore e signori, Paola Folli Benvenuta! Ciao! Ciao! Benvenuta Paola al Movie Bar e grazie infiniti di aver accettato il nostro invito Veramente grazie, grazie, grazie E io ti ringrazio e avere qui una persona come te, del tuo calibro Signori, per chi non la conoscesse intanto male, malissimo, malissimo Cioè, la madama qui mi ha... Ma adesso io vi dico perché ho una stima infinita per Paola Oltre che per le sue qualità canore che ha portato in giro nei palchi di tutta Italia Di tutta Europa, di tutto il mondo A fianco, io vi ho 883, Ruggeri, Fossati, Elio e le storie tese, Renato, cioè, tutti Ma io adesso ti dico il perché tu sei nel mio corazón, cara Paola Perché tu nel 1997, cazzarola, eri una delle muse di Hercules Ed è, io, io, siccome mi spiace forse aver affondato tutta la tua carriera Ma nel senso io... Ma no, assolutamente, anzi, anzi, stiamo parlando di un... Oh no, e lì il mio cuore è sempre rimasto E quindi, appunto, seguendoti, dopo l'ammetto, sono un grandissimo fan di Elio E quindi, nel senso, ti ho conosciuta lì Ma dopo, quando ho scoperto che eri una di quelle muse, di quelle voci Per me è proprio raggiunto l'apice totale Mio cartone preferito della Disney, ecco, motivo per cui... Molto bello Assolutamente E quindi, Paola, intanto, grazie infinite di essere qui E come sempre, ti rubo i primi 20 secondi della puntata Che mi servono sempre per ricordare perché esiste il Movie Bar Il Movie Bar esiste dal 2020 Ed è un anno simpatico, che sarà simpatico per tutti Ce lo ricorderemo tutti, nel bene e nel male Un anno che ha fatto, in qualche modo, far sì che le persone si reinventassero Inventassero di nuovo, che si riscoprissero Che cercassero, in qualche modo, comunque, di lottare ogni giorno Per andarsi a prendere i propri sogni E quindi abbiamo voluto dare spazio a persone come Paola Che ogni giorno, in qualche modo, rincorrono i propri sogni E che aiutano gli altri a raggiungerli Che è la cosa più bella E proprio di questo io oggi voglio parlare con te E la prima domanda, Paola, un po' canonica del Movie Bar È la seguente Quando è che tu hai capito che la musica sarebbe stata la tua vita? Allora, io l'ho capito abbastanza presto Nel senso che a sei anni ero già pronta ad entrare nel coro della chiesa Sono... sì, 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 ma come un sacco di cantanti So che sono entrati nel coro della chiesa prima Sì E quindi io sono entrata sei anni nel coro della chiesa Ho iniziato subito a cantare con il coro di Voci Bianche Da lì poi si è sviluppato una passione per la musica Per il canto in primis Ho iniziato... vabbè, il prete mi ha subito addocchiato Perché io comunque ero un po' nel senso peperino Nel senso che cantavo sempre Certo Ecco E poi... E poi da lì ho capito insomma che poteva essere la mia strada Mi sono comunque distreggiata in un sacco di cose Perché comunque ho fatto anche... mi sono diplomato in ragioneria Ma nel frattempo studiavo... studiavo canto e tutto quanto Però insomma l'ho capito diciamo molto presto Ok L'ho capito a sei anni A sei anni Quindi hai ricevuto... hai avuto una chiamata diciamo in qualche modo Alla musica partendo dalla chiesa Del senso è per... Un Blues Brothers Una chiamata in stile Bruce Brothers Giusto? Esatto, esatto Let us pray No Ma allora La verità è che io non conoscevo nessuno in questo ambiente Veramente Sì Proprio nessuno Io sono partita veramente da... da zero Sì E... diciamo che ho finito le superiori E i miei genitori mi hanno detto Paola allora noi ti diamo un annetto per vedere che cosa combini in questo mondo Se vediamo che non combini... Un merita ceppa, sì, ok Una merita ceppa, esatto Una cippa leppa Hai tutto il tuo bel diplomino Così ti trovi un lavoro e inizi a lavorare Allora io mi sono andata molto da fare Ma molto, molto, molto E sono entrata... Ho chiamato l'unica persona che conoscevo Che era il papà di Paolo Paltrinieri Era Vittorio Paltrinieri Che è musicista, famosissimo Che, insomma, che aveva fatto veramente tanto nella musica Cantante prima, autore e tutto quanto E ho detto Senti, io voglio lavorare in questo ambiente Cosa posso fare? Ok E lui mi ha detto Guarda Paola, combinazione C'è un'orchestra Che c'è un'orchestra che fa i Grand Hotel E così che cerca una cantante Perché quell'anno La cantante di questa orchestra sarebbe andata a Castrocaro Ah, ma dai Qui c'era Castrocaro Sì, c'era questa Diciamo Manifestazione Una rassegna, giusto, no? Sì Esatto Che poi da lì si accedeva Chi vinceva accedeva a Sanremo E poi ho detto Va bene E da lì Io sono entrata in quest'orchestra Che si chiamava Crazy Cosmos Band Grandissimo Totale E Io ho fatto tanta gavetta Cioè, proprio Ho fatto la vera gavetta Sul palco Tante ore sul palco Tanti pezzi diversi Ho cantato di tutto Ho fatto i ballettini Esistono anche delle testimonianze Ma forse le vedrai Quando ci conosceremo meglio Giovanni Ha una cerchia di pochi intimi Quindi è concesso questo abbonamento premium Di Paola Folli Ok, ho capito No, vabbè Sono abbastanza imbarazzante Nei miei ballettini Poi negli anni ho studiato anche danza Però lì ero un po' Veramente Ecco Lasciamo stare E lì ho fatto la gavetta grossa E poi da lì ho cominciato a Insomma, a cercare di entrare un pochino nell'ambiente E ho fatto il primo lavoro Con In studio Ok Allora, i primi due lavori sono stati La pubblicità dei vassoi Vemi Che Vemi, vemi, vieni a casa con me Ok 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 Perché Vabbè L'abbiamo dimenticato in 3, 2, 1 E poi invece ho fatto Un lavoro in studio con Joe Squillo Ma dai La mitica Joe Squillo È stato uno dei miei primi cori E poi da lì, sai Passaparola Eh sì Veramente È così E ho iniziato a entrare un po' Nell'ambiente Poi ai tempi Era difficile Ma c'era tanto 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 giro Ma Paola Guarda Toglimi una curiosità Poi ritorniamo un attimo indietro Tu mi hai parlato di gavetta Giustamente dicendo Ho fatto la vera gavetta So benissimo che Negli ultimi anni Un bel po' di ultimi anni Sei sempre stata appunto A stretto contatto Con Giovani talenti Nuove promesse E quant'altro È cambiata questa gavetta secondo te? Cioè nel senso Si viene affrontata in un modo diverso Ci sono delle opportunità diverse Ci sono delle Scorciatoie A tuo avviso Ma non chiamiamole scorciatoie Cioè Diciamo che Una volta c'era tantissima possibilità Di suonare nei locali Tantissima Cioè tu potevi andare in un locale Cioè potevi girare quattro locali Cinque locali a sera E andare su Andare Posso cantare un pezzo? Sì Andavi in un altro locale Posso cantare un pezzo con voi? Sì E quindi tu facevi anche in quel modo lì Cioè ogni sera Io per esempio ero una che appena Vedevo un gruppo che suonava Dicevo Potevo stavano Per cantare un pezzo con voi In titolalità Ecco E c'erano veramente Milano Io parlo della mia città Sì 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 Milano era Era una città super viva E dal capolinea Al grillo parlante Questi locali dove c'era Tutte le sere Musica E quindi tu avevi la possibilità Oltre al lavoro Che ti ho citato prima Sì Avevi la possibilità Veramente di Sperimentare ogni sera Con un gruppo diverso E Questa cosa Di suonare ogni sera Con musicisti diversi Faceva sì che tu ti abituavi a Eh sì è vero Capire Capire lo sguardo Capire Il batterista Trovi un batterista Che staccava in un modo Staccava il tempo in un modo Quindi insomma Ogni sera tu avevi la possibilità Adesso devo dirti che C'è molto meno questa possibilità E quindi Io so di ragazzi Insomma di 17-18 anni Che Cioè non sono ancora saliti mai sul palco E questo è un male Perché Invece il palco ti forgia Eh sì È verissimo Ti dà quella preparazione E quindi sai Cosa dici Cosa posso fare Mi Faccio un mio disco Faccio un mio EP Provo a Andare in quel locale lì E Adesso mi fanno fare la serata Sì Però i locali sono sempre meno Poi non parliamo Figurati adesso Certo Certo Prendiamo un velo pietoso E quindi insomma La possibilità Per questi Gavetti Potersi Giostrare E E E E buttarsi In questo ambiente Veramente complicato È Molta È molto meno Certo C'è meno possibilità Comunque Si viveva in un modo diverso Forse come dicevi tu Anche la musica live La musica nei locali Quindi c'erano più Possibilità di lanciarsi C'erano più possibilità Di lanciarsi Assolutamente Ma ti dico Ti dico una cosa Ti faccio un esempio Nel 90 Io ero 90-91 Beh Credo 90 Io ero nel Era il primo anno Dell'orchestra di Sanremo Di Aragazzini Ok Che portò l'orchestra Quindi noi Finite le prove Sanremo È veramente Molto Molto pesante Fisicamente Perché tu inizi le prove Al mattino alle 10 Finisci Tardissimo Alla sera Però per sbaggarci un po' Magari Cosa facciamo Noi vocalist Così con qualcuno Dell'orchestra Si andava A cercare qualche locale Quindi avevamo trovato Sto locale Mi sembra Ad Arma di Taggia Vicino a Sanremo E dove c'era questo gruppo Che suonava da paura E quindi noi andavamo lì E quindi noi Dopo le prove Andavamo lì E magari una saliva L'altro suonava Io salivo a cantare Cioè quindi Anche lì Trovavamo il modo Di sfogarci Certo Ogni occasione era buona Era buona Era buona Era buona Era buona per buttarsi E Paola Proprio di tutto Questo tuo percorso C'è stato un momento Che ti ricordi O più o meno breve O più o meno lungo In cui tu hai capito Che stava diventando Il tuo lavoro Cioè nel senso Che stava diventando La tua vita Ce l'hai in mente Quando hai cominciato a dire Ok Cioè Non deludo mamma e papà Perché ce la sto facendo È un percorso abbastanza lungo È abbastanza focalizzato Come è andata? Sì sì Cioè Ma subito Cioè da quando sono Entrata in quest'orchestra Ho capito che Io volevo fare quello Sì mi sono iscritta a teatro Ho fatto anni di teatro Mi sono iscritta a danza Cioè io volevo fare Questo mestiere A 360 gradi Quindi E come ti ho detto È stato difficile Ma facile Difficile perché non conoscevo nessuno Facile perché c'erano tante occasioni E in quegli anni C'era questa figura A Milano Che era Gian Maria Berlendis Che era un po' Un polo Di Diciamo dove tutta la musica Andava a Si trovava Era una Praticamente Un personaggio Che Se tu Giovanni Dicevi Io ho bisogno di Tre coristi Oggi Mi dicevo Ok ti mando La Paola La Silvia E Francesco Certo Quindi Ti mando Quindi era Noi eravamo tutelatissimi Dal punto di vista Professionale Ma Poi c'era Veramente Possibilità di lavorare Se naturalmente Eri in grado Certo Insomma Dovevi sapere leggere la musica I tempi C'era una preparazione Di un certo tipo E quindi Gian Maria Ci faceva lavorare tanto E da lì Poi Passaparola Magari Una Diciamo Una vocalist Più Matura Si trovava bene con te Quindi diceva Io volevo lavorare con Paola Certo Chiamo anche Paola E quindi Crei quel giro Quegli anelli Di quegli incastri Che ti portano A continuare a crescere A salire Esattamente E da lì Da cosa nasce cosa Quindi Guarda L'ho capito più o meno subito Beh questo Questo è fighissimo Ma più che altro Perché almeno ti vedi la strada Ce l'hai dritta E dici Ok adesso lavoro Verso quella direzione lì Soprattutto in un periodo Come quello che mi stai descrivendo Probabilmente Un pochettino Non più facile Ma che accompagnava di più Probabilmente Cioè ti dava modo Di spingere di più Anche appunto Andando a suonare fuori E essere sempre In mezzo Comunque Sempre nel Sempre nel giro E Paola Allora proprio Riguardo questo E anche in base a quello che È cambiato da una volta Ad adesso Ci sono C'è stato l'avvento di questi Benedetti social Che funzionano Assolutamente Uno intanto Come li vivi tu In prima persona E due Com'è che dovrebbero essere Secondo te Sfruttati Da chi Attraverso i social Vuole In qualche modo Far emergere Le sue capacità Beccare 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 Zuckerberg Sono Sono love Sì Di cultura Che il social Il social Corre Corre Ogni giorno Troverai Troverai sempre Quello Io c'ho uno Che mi scrive In continuazione Sotto i po' Sotto i po' Dove sempre Dire qualcosa Sempre Va bene E va bene Però Glielo si lascia fare Amen Sì Si deve sempre scrivere la sua Deve sempre Io dico rosso Lui dice verde Io dico verde Lui dice bianco Ma va bene così Va bene così Quindi secondo me È un bellissimo Veicolo Se usato bene E usato In modo intelligente E anche Insomma Moderatamente Ecco No no Infatti Infatti Sai cos'è? Sì Una volta Tu Artista Non avevi la possibilità Di farti vedere Così tanto No Tu artista Parlo Io quando ho visto Tina Turner a Sanremo Che è arrivata a ospito Ho detto Non esiste Perché È vera Quindi Adesso invece hai tutto Cioè Possibilità di vedere Tutti Quindi secondo me Bisogna un attimino Ogni tanto Centellinarsi Lo parlo proprio Ai ragazzi Che Darsi Ma in modo Brava È vero Perché Il fruttore Vuole avere Cioè deve avere ancora voglia Di sentirti Questo è È un bellissimo Punto di vista Paola È vero Cioè a noi Sembra di vivere Con Con il VIP Con la persona Come dici tu Esatto Probabilmente Adesso Tina Turner Ti sembra Quasi Forse vedi più lei Che tua sorella Nel senso Se fossero esistiti I social Ma è vero Viviamo in simbiosi Con delle persone Che non conosciamo Veramente Ed è un bellissimo Ed è un bellissimo Punto di vista Paola Io vorrei Io vorrei che tu Riempissi Con quello Che ritieni Necessario E da consegnare Appunto Ad una persona Più o giovane Che sia Che ha voglia Di intraprendere Una strada Come l'hai Intrapresa tu E in qualche modo Per dargli Il modo Di affrontare Questo viaggio Nel modo Migliore possibile Ecco Possono essere Cose concrete Possono essere Pensieri Cose astratte Sentimenti Che cosa ci metteresti In questo zainetto Ok Allora Innanzitutto Per partire Una cosa concreta Direi Un bel paio Di scarpe da tennis Perché bisogna correre Mi piace Giusto Giusto Scarpe da tennis Per correre Giusto Perché bisogna correre Sempre E Sì Poi naturalmente Una grande passione Usando invece Una cosa Un pochino Più astratta Sì Una grande passione Che ti deve guidare Per tutta la vita La tua vita Questo è il mestiere Più bello del mondo Se lo fai In un modo Insomma parlo Parlo comunque Dell'arte in generale È una scelta di vita Difficile Ma anche bellissima Perché Stai In mezzo A tante belle Tanta cultura Tanta Tanta musica Tanta bella gente Insomma Quindi ci vuole Ci vuole sicuramente Una grande Grande passione Che ti deve guidare Per tutta La tua vita Artistica Poi Sicuramente Allora Io direi Che ci vuole anche Tanta curiosità Curiosità Tantissima curiosità Perché Se non è quella Io sono una appassionata Per esempio Che tanto di cinema Vado a cercare Vado a sentire La colonna sonora Ma Oddio che bella Questa Io vado a cercare Su una che scava 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 Finché non trova Quello che Che vuole trovare Che sta cercando Certo Esatto E quindi La curiosità è fondamentale In tutti i lavori Ma questo Questo qua È fondamentale Poi sicuramente Io dico sempre Che ci vuole Unità Che non vuol dire Non vuol dire Non essere sicuri Di se stessi Ma assolutamente Essere umili Accettare Scava Circondarsi Di persone Che ti dicono Anche No Cioè Ti dicono no Non solo Yes man Ma anche No man Perché solo Perché solo Così cresci E quindi Sicuramente Quel tipo di umiltà Lì Io quando Quando c'è stato Ci sono state le persone Che mi hanno fatto Delle critiche Sì E costruttive E che mi hanno aiutato Veramente tantissimo A crescere È vero E questo è Quindi non essere Permalosi Diciamo anche no Quindi se ti fanno Una critica Saperla prendere Saperla analizzare E migliorare anche da quella Assolutamente Assolutamente Naturalmente Naturalmente Deve essere qualcuno Che tu stimi Ecco Certo Se ti dice Una persona che tu stimi Vabbè te lo fai Non stimi E poi Magari come ultima cosa Diciamo Non smettere Di studiare mai Perché Questo È sempre Una frase fatta Però No ma è vero Più studio E più mi sento Ignorante È vero È vero È vero In un mondo che poi Continua ad evolvere In qualsiasi campo Cioè nel senso È Bravo È vero È verissimo Cioè Bravo Sì sì Adesso poi ti devi intendere Di tutto Perché sai Noi siamo Non siamo nati col computer Tu sei giovanissimo Sei nato col computer Ma noi no E quindi siamo Dovuti tutti Insomma Adeguare a questo mondo No È un po' Si è tecnologizzato È vero È verissimo È verissimo È verissimo Assolutamente Assolutamente E quindi diciamo che questo potrebbe essere un bel panorama di cose Naturalmente senza entrare nello specifico Però E ecco Poi ecco L'ultima cosa che ti posso dire è Per esempio io sono una che si prepara molto per le cose Non lasciare mai niente al caso No Io sono stata dieci anni in tournée con Elio e le storie tese E lì ho capito cosa vuol dire andare sul palco E l'avevo Io l'ho sempre fatto Sempre stata una che Certo Ma dovevo arrivare sul palco pronta Però Con Elio e le storie tese Insomma Sono diventato una macchina Certo E pensare sempre Ok ho studiato Sì ma studio ancora un po' Certo Certo Però faccio un compassettino in più Almeno sono sicura che Perché poi sul palco ti devi andare a divertire Giovanni Ma quello Paola Quello esatto Ma guarda Anzi forse adesso che mi dici così E appunto forse non tutti lo sanno Prendendo una band come Elio e le storie tese Uno dice Guarda Quello che vedi Quello che ti appare Persone Con un cervello esplosissimo Che si divertono come matti Ma dietro c'è una scuola Dietro c'è comunque una metodicità E comunque un essere Alla fine è un lavoro Ed è verissimo vedere che nel momento in cui tu sei Serio Professionale In tutto quello che fai Dopo puoi solo che divertirti Cioè sul palco sali e ti diverti Assolutamente Perché Il senso di questo mestiere è quello lì Giovanni Cioè il senso è Arrivare sul palco E non pensare alla scala Sì esatto O Agli accordi maggiori e minori Cioè tu devi essere sul palco e canti No no Mi hai fatti E te la godi E ti diverti Quindi Primo momento Capisci che pubblico hai davanti Se sarà un pubblico difficile Un pubblico Invece che Ti è già subito amico Dal primo momento E dopo Vai Dal secondo brano No no E vatti E vai Parti via Alicia E Paola Proprio da qua Da questa ultima parte Che abbiamo affrontato di discorso Mi introduco anche in quello che è Tante volte Penso che Come dici tu Tutti i lavori artistici Ma passo anche per il mio da videomaker E noi abbiamo forforgiato il termine Sono dei non lavori Perché sono quelle realtà in cui La maggior parte delle volte sono non lavori Per chi sta fuori Per chi ci percepisce Cioè sai La famosa domanda Sì ma di lavoro Che cosa fai E penso che a te Figurati Avrai un almanacco Riempito di frasi così Però appunto Quello che mi dici tu E volevo chiederti appunto Anche qualche mia curiosità Che ne so Andare in studio A registrare un album Assieme a un artista Qualsiasi artista sia Non è che dici Oh wow Che culo Paola Folli va a registrare Cioè perché Paola Folli Si è fatta il mazzetto Prima di entrare in studio A registrare Ecco quindi ad esempio Tu Tanto mazzetto Mazzettone Mazzettissimo Ma appunto Ad esempio Raccontiamo Prendi un lavoro Che hai fatto O con Elio O comunque con qualsiasi artista Che iter segui tu Solitamente Prima di accedere E di entrare in uno studio Poi anche parliamo pure Dei live Quello che vuoi Ecco Com'è che tu affronti Tutto questo Il questo tuo non lavoro Bello Bravo Mi piace No allora Dipende cosa vado a fare Certo Nel senso Se vado a fare i cori Adesso Io sono tanti anni A parte le storie tese Dal 2000 Che non faccio cori Per nessun altro E se entro in studio E registro solista È logico che arrivo Preparatissima Però poi C'è sempre Comunque un coach Che mi segue Che è mio marito Che insomma È la persona Di cui mi fido moltissimo Mi segue Lui nelle registrazioni E E questo è Se faccio solista Se faccio Invece coaching Vocal coaching Devo prepararmi Tutti i pezzi Bene prima Dell'artista Che seguo E Di modo che Io non devo avere dubbi E Devo Essere lì Per Rendergli O renderle La La situazione Più facile possibile E Più agevole Esatto E per Naturalmente Per Farlo stare tranquillo Certo Ecco Quindi È logico Che per fare il coaching Mi scaldo Così Ma per fare Insomma Se entro in studio solista Mi devo scaldare Un po' prima E Insomma Mi devo preparare Bene Dal punto di vista Anche Della fatica Perché Insomma Porca miseria Stare solisti È sempre molto Insomma Faticoso Devi fare un album E Adesso per esempio Ho fatto un album Che esce fra poco Con il mio gruppo Che si chiama Iguazù Facciamo Latin jazz E quello è un genere Abbastanza complicato Quindi sai Benissimo Quando registri Insomma Faticherai Le energie Devono essere spese Certo Vanno spese Vanno spese Sì 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 Ecco Paola grazie Allora Adesso Mi togli O almeno Mi provi a far immergere In quello che poteva essere Stata la situazione Ovviamente Io me ne torno indietro Nel lontano 97 Cioè Mi racconti Ma perché appunto Sono un fan E porcaccia la miseria Proprio Ho te qua E ti chiedo Nella parte di doppiaggio Perché comunque dopo Anche qui PS Sottotitolato Hai fatto anche Mi sembra sempre Del filone Pixar Disney Anche Shrek 2 Qualcosa mi sembra E poi La fatta madrina Di Shrek Di Shrek Esatto Di Shrek 2 Sì poi ho fatto Diverse cose Per la Dreamworks Ho fatto Il seguito del principe d'Egitto Le folie di Kronk Le folie di Kronk Ho fatto Winnie the Pooh Tutti Winnie the Pooh Ero la voce italiana Di Winnie the Pooh Che mi sono divertita Santissimo Sì Sì E come è Paola Entrare in studio Per queste cose qua Cioè nel senso Come funziona Cioè Allora Shrek È stato molto faticoso Sì Perché comunque Sì Shrek mi sembra sia Dreamworks O è Disney No Dreamworks Sì Ecco E Quindi C'era una C'è un'attenzione maniacale Al 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 fatto che tu Non devi far uscire Nessuna notizia Di questo Perché guai Appena la morte Quindi firmi Il contratto Con il sangue Cioè ti fanno Prima ti tagliano le vene Firmi Tu non vedi più Nessun'anima via Per non rischiare Probabilmente In quel periodo Giusto Adesso all'uscita Tu non uscirai più di casa Ok Quindi ho registrato Per esempio Shrek ho dovuto doppiare In questo cinema Con questo Mega schermo Ok Una fatica Che tu non hai idea Perché Ero sotto Sotto allo schermo enorme E quindi vedevo la bocca Della fatta madrina E basta Una fatica Una fatica Avevo gli occhi Che mi lacrimavano La sera Però guarda Io mi sono diplomata In doppiaggio Per fare anche questo mestiere Ed è bellissimo Ed è bellissimo Che potevi andartene A caso A caso No 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 Per esempio Nel seguito Mi sembra sì Nel seguito del principe d'Egitto Che era Giuseppe Il re dei sogni Se non erro Lì per esempio C'era Io facevo Ho fatto una canzone all'inizio Poi facevo la mamma A un certo punto Che in inglese Faceva tipo You E io dovevo Avevo una parola Che dopo avrebbe avuto la U Allora Adesso mi ricordo bene Però abbiamo dovuto anticipare la U Perché se no si sentiva A E lei faceva U Quindi insomma Questi piccoli accorgimenti È logico che In inglese Adesso Tu sai benissimo Che adesso con l'inglese Loro è come se parlasse Il cartone animato Certo Certo Esatto In inglese Ecco È così In italiano sì Dopi si cerca di adeguare Insomma Ah ecco Tipo Avevo fatto Elm in Brontolandia Questo film di Con Sì sì Così Muppets Esatto E c'era la Regina dei rifiuti Cravanessa Williams Questa donna stupenda A un certo punto diceva You E io dovevo dire Virtù No A un certo punto Sì Hanno cambiato Dovevo dire Era a un certo punto Hanno messo Virtù Perché lei faceva La U Sì chiaro E quindi anche lì Si fanno un po' di accorgimenti Anche insomma Chi scrive i testi Si fa Un bel mazzino Perché deve Porca miseria Ma cercare di fare Di stare un pochino Nel Insomma Con la biale Esatto Un sync Il più possibile Vicino A quello Che poi appunto I cartoni veramente adesso Aprono e chiudono la bocca Cioè Parlano veramente C'è come doppiare Un essere vivente Appunto Una persona Pressionante C'è stata un'evoluzione Veramente Incredibile È quello sì Paola Io salto Da Proprio da Dalla Disney Dai cartoni A quello che è Il mondo Del Dei talent E Non voglio andare Nello specifico Ovviamente Ma voglio Chiederti Secondo te appunto Abbiamo parlato prima Dei social Del fatto che ormai Nei social Nel web Tutti possono dire Quello che pensano Tranquillamente Che ci siano robe Pensate Meditate O la cazzata Dell'ultimo secondo Che gli viene in mente Anche qui io ti chiedo Hai lavorato Un bel po' di anni Con tutto il team Di X Factor E quant'altro Non che cosa ne pensi Ma più che altro Come un Anche qui Un artista Una persona Che ha voglia Di accedere Ad un talent O comunque Utilizzare un talent Per provare Ad entrare In una strada Ad entrare In un percorso Come deve affrontarlo Secondo te Cioè nel senso In che modo Con che mentalità Con che speranza Con che preparazione Ecco un pochettino Come consigli tu Di affrontare Questi talent Qualsiasi Esi siano Poi ovviamente Certo Io ti parlo di X Factor Naturalmente Perché sono stata Tanto a X Factor Ecco Ho fatto lì Dieci anni Dieci anni Davvero Mamma mia Così È vero È porca caccia Eh sì Eh sì Allora Allora Io dico sempre Che devi affrontarlo Con la verità Cioè quindi Non fingerti Un'altra persona Perché poi Naturalmente Se poi Vieni preso Si vede Che non sei Poi quella cosa lì Certo Insomma Bisogna essere veri Ecco Bisogna essere veri E non E non Fingersi altro Certo Perché ecco Suona male Certo La verità La verità Vince sempre Ma poi ecco Tornando alla parola Divertimento Sì Ecco Deve essere un momento In cui tu conosci Della gente Ti diverti E non devi pensare Andare lì E dire Cioè vai lì Certo Per riuscire ad arrivare Però È anche un momento Di aggregazione In cui Sono nate anche Delle amicizie Eh sì In fila Sono nate anche Delle amicizie Sì Quindi insomma Deve essere una cosa Comunque che ti Che ti diverte E in cui tu Insomma Credi Cioè vai lì Perché ci credi Ma non deve essere Non deve essere Un Se non ti prendono Va bene Lo stesso Certo Ci sono altre vie Se ti prendono Ed entri E Riesci a fare Quel percorso Che è un percorso Bellissimo Che ha a che fare Con un sacco Di professionisti Certo Lo prendi come un inizio Anche quello Perché Se lo prendi Invece Infatti Dico subito Il primo giorno Dico ragazzi Questa è una palestra Stupenda Se voi la sfruttate La sfruttate al meglio Perché E sì Perché Hai a che fare Con coreografi E ballerini Impari a stare davanti Alla telecamera Impari a vedere A vedere come stai Meglio truccato Pettinato Ai coach Insomma Hai veramente Un sacco di gente Che è con te E quindi Lì è un bel inizio È una bella partenza Sì È una partenza bellissima Se la prendi Se la prendi così Entra con Con un mood Non proprio Come dici tu Alla fine È essere Una persona Come si è Veramente Divertendosi Cercando di capire Che è solamente Un inizio Di un viaggio Che può essere Incredibile E che se anche Non vai Quel viaggio Lo puoi cominciare Comunque in un altro Modo Nel senso Ma sì Magari è anche Un momento Per conoscersi Un po' di più Sai Magari Tu capisci Che magari Per esempio Capisci che Hai difficoltà Magari A gestire L'ansia No Magari Invece Uno capisce Invece Stavo bene Mi sentivo Veramente a mio agio Questo è Il mio posto Voglio essere qua No Per esempio Non so se ti ricordi C'era Luna Melis Una delle protagoniste Di Sfat Questa ragazzina Giovanissima Lei era Una bomba Cioè Lei era Lei voleva stare Sul palco Ma perché Lei era Felicità Dice io Paola voglio stare qua Voglio stare sul palco Voglio Quindi lei era gioia Per lei era proprio gioia Ma non perché Era X-Factor Anche perché Era X-Factor Ma perché Lei voleva fare Questo mestiere E voleva stare sul palco Quindi lei L'ha vissuto Proprio Al meglio Ecco Lei proprio L'ha vissuta Avere Ma guarda Se entri Con questo mood Te la vivi benissimo No no Infatti E questo è un messaggio Che mi piace passare così Perché è giusto Che vada Che vada vissuto così Come tutto il resto Delle esperienze Che una persona In ambito artistico E non Possono E comunque Devono fare Parlando sempre Parlando sempre di ambito artistico Di palco Parlo del tuo E ovviamente Io immagino Paola Che nella tua carriera Il tuo cuore Sia spezzettato In mille palchi In mille collaborazioni E quant'altro Così a freddo Se io ti chiedessi Anzi a caldo Se io ti chiedessi Una delle situazioni Dove Passami il termine Te la sei fatta Quasi addosso Dall'emozione Perché era così forte Che è una delle Delle situazioni Che ti può venire in mente Così Adesso Al volo Di tue esperienze Appunto Di live O non live Ovviamente Allora Ti posso dire Che Quando sono stata chiamata Da Elio Le storie tese È stato uno dei momenti Più belli Della mia vita Sì Perché comunque Era un po' Il mio sogno Essere in tour Con loro E avevo fatto Tante collaborazioni In studio Ma E qualche Qualche Collaborazione live Con loro Ma quando poi Mi ha chiamato Elio E Rocco Tanica Quel giorno Che mi hanno telefonato Io Ho fatto un salto Che non lo sai Cioè ho detto E quando Sono uscita La prima volta Con loro sul palco Ecco Devo dirti Che è stato Emozionante Ma Emozionante Perché Sapevo Che ero in un posto Dove dovevo Assolutamente Fare bene Il mio lavoro Perché era un gruppo Che io Stimavo E volevo Che loro Stimassero me Certo Non volevo E il pubblico Di Elio È molto esigente Quindi Vuole Comunque Un certo tipo Di spettacolo E quindi Io volevo Essere all'altezza Quindi ero Emozionatissima Insomma Figurati Ma Ma quello che ti voglio dire È che Anche Anche un'altra situazione Ti dico prima Questa cosa Anche per esempio Correnato Zero Quando sono uscita A San Siro Sì E all'Olimpico Allora San Siro Tu sai che c'è Hai davanti Il muro Il muro Il muro di gente Quindi esci E fai Già fai un attimo Ecco E anche l'Olimpico Vedere l'Olimpico Pieno Due sere Eh sì Ti dico Ti dico che io Una sera Non sono entrata A cantare Perché Guardavo Renato E guardavo il pubblico E ho sentito Gli altri che cantavano Oddio No Ti giuro Ti giuro Non sono entrata Ero così emozionata Ma è certo E E L'altro L'altro momento Di emozione totale È stato Sanremo Nel 90 Quando è stato Che ti ho citato prima Sì Il ritorno dell'orchestra Quando c'è stata La prima serata Di Insomma Di In diretta Insomma Il compito è Era abbastanza importante Certo Bello Bello Emozionantissimo Però Quello che ti voglio dire Giovanni è questo Che se tu Non hai questa cosa qua Se non ce l'hai più Non puoi più farlo Questo mestiere Quindi diciamo che Ogni volta che Io esco Ho questa cosa qua Quest'emozione Ti si alza un pochettino Il La peledochina C'è E quindi tu dici Ok sto funzionando ancora Cioè La mia strada Prosegue qui Non ce l'hai più Se diventa routine E non hai Quello deve essere Facendo questa tipologia Di lavoro Io appunto Immagino che sia proprio L'emozionalità Delle cose Cioè Quello che si trasmette E che si manca Veramente è un Vuol dire che appunto Probabilmente Non Non fa Ma se Continui ad avercelo Porca c'è la miseria Quella Quella benzina Bello Come hai detto tu C'è l'adrenalina Eh sì C'è Sentì proprio Ti senti la pelle d'oca Sulla schiena E Dici ok Ci sono No no È vero È vero Paola Io Metto il dito nella piaga Non voglio troppo Ma voglio proprio fare anche qui Un ragionamento molto leggero Che cosa è stato per te Questo 2020 Ma soprattutto Faccio la domanda Che preferisco fare Nel senso C'è qualcosa di positivo Che ti porti Da questo 2020 Cioè nel senso Soprattutto E tu facente parte Di un mondo Che comunque È stato molto toccato E che comunque S'è beccato Una fucilata Sui denti Che ce la siamo beccata Tutti Ma alcuni Alcuni settori Veramente si sono presi Una botta Che stiamo ancora tremando Come l'hai vissuto Sei riuscito a trovare qualcosa Qualche appiglio di Ma sai che forse Adesso però Probabilmente Ho Ho dedicato del tempo A qualcosa Che non avrai mai avuto Da una frenesia Di una quotidianità normale Ti porti a casa Qualcosa di Di buono Se qualcosa di buono Si può portare Da quest'anno Allora Diciamo che è stato Non nego Che è stato Un anno difficile Nel senso che L'ambiente nostro È stato veramente Come hai detto Super colpito Io ho avuto la fortuna Di poter andare avanti A lavorare online Sia con il conservatorio Che con i miei allievi Però ci sono Per esempio Dei tecnici Che conosco A cari amici Che insomma Sono dei mostri A montare palchi Vanno Vanno su e giù Da palchi Di 150 metri E così E sono rimasti Veramente A terra Questo mi dispiace Tanto Perché comunque Sono persone Con cui tu lavori Non voglio fare Assolutamente Nessun tipo di pianto Di piangermi addosso Però diciamo che Come al solito Cioè io sento Tantissime lamentele Di un sacco di gente Che non ha Che non ha smesso Un giorno di lavorare Invece Insomma Noi abbiamo Io ho perso Tantissimo lavoro E figurati Masterclass Concerti E tutto quanto Quello che mi porto È sicuramente La consapevolezza Che Che siamo Che non contiamo nulla Che arriva una cosa così Arriva una cosa così E fa Tecchete Esatto Quindi bisogna veramente Essere consapevoli Che Che non contiamo nulla È lo stesso effetto Che ho avuto Quando sono andata A Yellowstone Insomma Che sono andati In questi parchi americani Guardavo È vero Paola È vero È vero Mamma mia Sono arrivata Al Grand Canyon E ho detto Questo c'era Ci sarà Io Cioè Io Noi veramente Non siamo Siamo veramente Un granello di polvere In questo universo E quello che mi porto Che mi sono Portata È avere Approfondito magari Delle cose Che non riuscivo a fare Insomma Mi sono Mi sono Dedicata magari Allo studio Del Di programmi nuovi Per scrivere la musica Pianoforte Pianoforte Ho studiato di più Pianoforte Mi sono Sono stata più Anche con mio marito Che ci vedevamo Vedi poco E quindi abbiamo potuto Parlare anche molto di più Certo E la consapevolezza Esatto In qualche modo Dai Ci siamo fermati Eh sì Eh sì Eh sì 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 Concordo Concordo in tutto Paola Ti chiedo di fare Stiamo a mio malincuore Ma a me Guarda Vole il tempo È quasi Un'ora di chiacchiera Sarebbe stato bellissimo Eh ti porto Nel tunnel Della Della fine Della chiacchierata Del movie bar Con un breve calcolo Quindi Eh da quanti anni Siamo signora Folli Sul Su un palcoscenico Nel mondo delle Delle notte Quindi più o meno Circa Dunque Siamo nel mondo Delle notte Da una bella Trentacinque Trentasette 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 anni Quindi in questo periodo Di zone Gialle e rosse Dove non ci fanno viaggiare Io mi permetto Di farti fare un viaggio Un viaggio di trentasette anni Che tu prendi Pigli Te ne vai indietro Ok E ti autobecchi Cioè nel senso Ti trovi faccia a faccia Con te di trentasette anni fa E E dici Paola Eh Paola Ciao Paola Paola E che cosa dici a Paola Di trentasette anni fa Cara Paola Sapendo esattamente Tutto quello che ti è successo Che cosa ti sentiresti Di Dirti Vale anche Niente Nel senso che Sarebbe un modo per dire Tutto quello che ho fatto Lo rifarei Oppure Qualche aggiustatina Qualche idea in più Qualche Consiglio Te lo autodaresti Paola Certo Beh uno sicuramente Credi in te stessa Sempre Non lasciare che Non lasciarti schiacciare Da nessuno Questa è una cosa Che continuerai a ripetere Alla bambina Alla piccola Paola Ah piccola Paola Non lasciarti Sì 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 Credi 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 In te stessa Lavora sull'autostima Lavora sulla tua personalità E veramente Non lasciarti schiacciare Circondati Di bella energia Perché ogni tanto Sai Tu hai Magari un sentore Sì Di qualcosa Che ti sta succedendo Intorno Però Dici ma no Ma no Invece Noi siamo Siamo bravissima A capire Che c'è qualcosa Che non va Magari intorno a noi Bisogna proprio Difendersi da queste cose Quindi sicuramente Questa cosa E poi Ti direi Direi alla piccola A 18 19 anni Vai a farti una bella vacanza Con le tue amiche Perché poi non avresti più Non hai più tempo Mi piace Questa mi piace Ma sai che Che sei la prima Che mi ha detto una cosa Che è bello Mi piace Porcaccia È vero È vero Ma porca miseria Non avevi fatto una vacanza Con le mie amiche Per cui ho iniziato subito A lavorare Ed estate si lavora E quindi Ma vai già lì Con i biglietti Paola Gli ridai proprio in mano Vai Vai Porcaccia È vero È vero È verissimo Però la fiducia in se stessi E il fatto di Di non farsi schiacciare Sembra così Una frase fatta Ma no No È vero È vero Non è così È vero È proprio così E come dicevi tu Paola Appunto Non è tanto frase fatta Ma perché forse Ce ne siamo resi conto Dopo aver beccato Un'annata Niente male Capisci Perché probabilmente Se non arrivava Alcuni pensieri Tipo questo Probabilmente Non avremmo neanche avuto Modo di fermarci E dire Cazzarola Ma vedi che se ne arriva Un'altra roba del genere Forse forse Stiamo ancora più Sul fondo Sono completamente Completamente D'accordo con te Quindi ti porto Anche io i biglietti Per te piccolina Per farti fare Fare un bel viaggio Porca miseria E adesso Vado su Ryan Già direttamente adesso E vado a fare Perché Ce n'è di bisogno Paola Io sono arrivato In fondo a questa Chiacchierata Magnifica con te E ti ringrazio Infinitamente Grazie a te Giovanni È stato bellissimo È stato veramente figo Ti lascio Con l'ultimissima domanda Che anche questa È molto simbolica La stiamo facendo Agli ospiti del 2021 Che è Un buon proposito Per quest'anno Da parte tua Il buon proposito Di Paola Folli Del 2021 Allora Diciamo che Deve essere Sicuramente Un Aspetta Che Scusami Mi stanno telefonando No Non posso Diciamo che Ti dico una cosa Cioè io non voglio Il mio proposito È non lasciarmi Sopraffare Da questo Momento Da questo momento E ritrovare La forza E l'energia Che avevo L'anno scorso A gennaio Febbraio Ritrovare Quell'entusiasmo Perché È difficile In questo momento Trovarlo È molto Difficile E io voglio Assolutamente Non farmi schiacciare Certo Il mio proposito È questo qua Ottimo Paola E lo auguro Dimmi dimmi No no Appunto Assolutamente Non voglio Che questa cosa Mi Schiacci Voglio assolutamente Io lo auguro a te E a tutti A tutti Perché Non è un discorso Del ce lo meritiamo Perché nel senso È capitato È successo Nessuno Lo poteva sapere Ma perché Comunque Alla fine È bello Sapere Prendere coscienza Del fatto Che In qualche modo Si tornerà A quello che si era Prima Con la forza Che avevamo prima Quell'energia Esatta Come dici tu Di febbraio del 2020 Che eravamo lì Pronti a dissiparla Per tutti questi mesi E dai Dai che ce la facciamo Incrociamo le dita Paola io ti ringrazio Infinitamente Infinitamente Grazie a voi Spero ci sia modo Anche di fare altre chiacchiere Incrociarsi per altri motivi Quindi veramente Grazie Quando volete Grazie Quando vuoi Io ci sarò sempre per voi Grazie infinite Ciao Amici del Movie Bar Noi ci vediamo Nella prossima puntata Ciao 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 Ciao